La missione, questa è la prima diapositiva che voglio farvi vedere perché la missione dei musei vaticani è quella di far conoscere, preservare e condividere quello straordinario lascio di cultura, di storia, di bellezza ma anche di fede che i pontifici romani hanno accolto e custodito per secoli e come direttore dei musei vaticani e come curatori, cioè tutti i miei colleghi, abbiamo l'obbligo di tramandarlo alle generazioni future. Solo due parole sul fatto della mia nomina al femminile. Io ho minimizzato subito questa nomina, non voglio essere una quota rosa e questo ci tengo a ribadirlo. Però vi devo dire che andando avanti nei due anni della mia direzione, spaziando dal Messico in giro per l'Italia e l'Europa, dove mi capita di fare delle conferenze, tante volte donne vengono da me dicendomi è un bellissimo esempio che lei dà a tutte noi perché effettivamente si può conciliare la famiglia, io ho tre figli, un marito, ancora siamo insieme incredibilmente dopo tanti anni, tre figli e comunque una vita normale con un lavoro così impegnativo. Ve lo dirò meglio fra un po' di anni dopo che questo lavoro va avanti, con il Rettore dicevamo che all'inizio tutto va bene e poi effettivamente avanti negli anni lavori così impegnativi ti logorano e comunque sono sicuramente fonte di tanto tanto pensiero, come dicevamo H24. Ah, si vede poco. Allora, cosa sono i Musei Vaticani? Vorrei dividere questo mio intervento in due parti. Da una parte vorrei introdurvi alle collezioni vaticane perché forse non tutti sanno che sono appunto dei musei universali, si chiamano Musei Vaticani al plurale, non Museo Vaticano perché sono un sistema, un complesso di musei formato da tante diverse collezioni che nel corso dei secoli appunto dicevamo pontefici, ma non solo i pontefici, anche cardinali, i vescovi, i laici che erano al loro servizio hanno voluto raccogliere in nome della fede, in nome dell'arte, in nome della storia, in nome della importanza di tramandare determinati valori di storia, di arte e di fede. Sono appunto all'interno del più piccolo stato del mondo, la diapositiva precedente era lo stato e la città del Vaticano, se torniamo un attimo indietro lo vedete, sono le mura di San Gallo che dal Trattato Lateranense del 1929 sono stati stabiliti come luogo, in accordo con l'Italia, come luogo dello stato della città del Vaticano, che è lo stato più piccolo del mondo, sono 44 ettari, più ci sono dei luoghi extraterritoriali, però di fatto sono questi 44 ettari. Pensate che Papa Pio XI, che volle fortemente questo trattato, nel giro delle notti precedenti, decise di rinunciare a tutta Villa Panfili, che sarebbe stata dieci volte più grande. Noi oggi, lavorando in Vaticano, ci dispiace che questo non sia avvenuto, perché abbiamo bisogno di spazio, ma ci rendiamo conto che il Papa voleva quel tanto di territorio che un potere di tipo spirituale avesse però un corpo per esercitare il suo potere comunque di tipo spirituale, ma anche fisico, un piccolo corpo fisico. Quindi, di questi 44 ettari, 22, quindi la metà, sono di boschi e giardini, meravigliosi giardini vaticani, che tutti forse avete visitato, vedete, ecco, tutta una parte lì, non c'è tutto lo stato, e se andiamo avanti ancora, i musei vaticani occupano una gran parte di questi restanti 22 ettari. Sono circa sette chilometri di percorso. Sette chilometri che vanno dalle mura, diciamo, di Sangallo, quindi dalle mura italiane, vanno fino al cuore dei palazzi vaticani, molto vicino alla Basilica, molto vicino agli appartamenti dove i pontefici hanno vissuto dalla fine del Cinquecento, in realtà vissuto, insomma, hanno abitato, non sempre vissuto, ma insomma, dal 1870 in poi sicuramente, dove c'è la Cappella Sistina, che è nella parte in fondo, l'appartamento Borgia e le stanze di Raffaello, quindi nel cuore dei palazzi vaticani, quindi un lungo percorso che si snoda in tutti questi diversi musei che adesso velocemente vedremo di come si compongono. È una cronologia molto ampia, non c'è una data di inizio dei musei vaticani, o almeno una data ufficiale come c'è in tanti altri musei nel mondo. Si suole far risalire al 1506 a quello straordinario Papa Giulio II, che tutti identificavano come un Papa guerriero, ma in realtà è stato un Papa umanista straordinario, perché appunto ha non soltanto commissionato a Michelangelo la volta della Cappella Sistina, a Raffaello il suo appartamento privato, a Bramante il rifacimento del nuovo San Pietro e tutto il complesso di Belvedere, ma ha anche voluto la prima collezione stabile nel cortile cosiddetto delle statue in Vaticano. Cioè era una sua collezione privata, ma era un luogo magico, dove le statue più importanti presenti a Roma in quegli anni furono raccolte. E così via, vedete, però c'è un gap che va dal 1506 al 1756, quindi sono più di 250 anni, sono esattamente 250 anni, in cui c'è la prima forma museale. Chiaramente non esisteva il concetto di museo, un concetto settecentesco, e quindi quando nasce l'idea di creare un museo, i pontifici, Clemente Undecimo Albani, lo fonda il primo nel 1783 ai musei capitolini, cioè tutta Roma era, chiaramente lo sapete, era dei pontifici, tutta la parte centrale dell'Italia, e lui fonde il suo museo di antichità e poi successivamente la Pinacoteca in Campidoglio, perché il Papa viveva a Laterano, non viveva in Vaticano, il Vaticano appunto ci inizia a vivere stabilmente soltanto dopo il 1870. E vedete, poi c'è tutta una sequela di musei, di fondazioni, di musei diversi, ma questi ritorneranno appunto nel mio discorso, quindi questa stessa diapositiva la riavete più volte per capire dove stiamo andando. Possiamo andare avanti. Giulio II, questo è un ritratto straordinario che Melozzo da Forlì fa in un affresco della Pinacoteca Vaticana. Giulio II, che appunto, andiamo avanti, ecco questo è il Melozzo da Forlì, il Sisto IV che era suo zio appunto, il Francescano Sisto IV, il Papa della Cappella Sistina, è Sisto IV da cui prende il nome la Cappella Sistina, che nomina Platina il bibliotecario. E il suo cardinal nipote, appunto, il futuro Giulio II, è quello in piedi al centro. Quindi ha ereditato anche dallo zio sensibile, un grande umanista Sisto IV, filologo e l'attenzione anche al bello, alla conoscenza. E lo applica appunto nel... E quindi all'indomani della scoperta di questo che è considerato, probabilmente menzionato da Plinio, il gruppo forse più importante della scultura greca, il cosiddetto gruppo della Conte, lui lo compra, lo acquista subito, viene ritrovato sul Colle del Belvedere, lui manda subito Michelangelo a vedere di che cosa si trattava, e lo acquista e lo pone nel Cortile del Belvedere, insieme a tutta un'altra serie di statue. Ma al tempo stesso, appunto, commissiona a Donato Bramante la distruzione, quindi ci vuole anche coraggio, della vecchia basilica costantinana di San Pietro, e la riedificazione pone la prima pietra proprio nel 1506 del nuovo San Pietro. Andiamo avanti. Ma anche uno straordinario complesso di Belvedere che viene dall'architettura degli antichi, pensiamo a Palestrina, pensiamo a tante anche architetture grandiose che dovevano in qualche modo collegare i palazzi vaticani con la sommità del colle più alto di Roma, non i Sette Colli, questo è il Colle Vaticano, che è un monte molto alto, ma che sta dall'altra parte del Tevere, quindi non fa parte dei Sette Colli, ma è un punto panoramico molto molto alto, appunto detto anche Colle di Sant'Egidio. Eccolo qui, dall'alto della cupola, vediamo questo complesso che Bramante inizia a progettare e poi viene finito da Pirroligorio. Avanti. Ma commissiona anche al giovane scultore, 35enne Michelangelo, la volta della Cappella Sistina. Inizialmente lo indirizza verso Raffigurazione degli Apostoli, Michelangelo fa cambiare il progetto nella straordinaria creazione della Sistina. Avanti. Ma anche al 25enne, immaginatevi 25 anni di Raffaello Sanzio, urbinate, poi un periodo a Perugia, un breve soggiorno a Firenze, e poi viene chiamata a Roma per decorare appunto le stanze personali di Giulio II, perché Giulio II non voleva vivere nelle stanze dell'appartamento sottostante che era di Alessandro VI Borgia, accusato di nefandezze personali e governative terribili, quindi decide appunto di affidare a questo giovanissimo, ma già talentosissimo artista la decorazione delle sue stanze. Non entriamo nel dettaglio, è semplicemente per andiamo avanti. Questo è il Belvedere Vaticano, vedete, Bramante, ma unisce appunto anche le collezioni di statue e le pone proprio nella sommità del Colle di Sant'Egidio, dove già Innocenzo VIII, un pontefice di epoca precedente, aveva costruito un piccolo Belvedere, un piccolo edificio, lui pone queste sculture, una sorta di giardino secreto, di Viridarium, dove lui conversava con i suoi collaboratori, con i regnanti che venivano in visita, un luogo di amenità, ma al tempo stesso di ispirazione e di attenzione verso l'antico. Oggi questo è il cosiddetto cortile ottagono, che è il cuore delle collezioni vaticane, che prende questa forma soltanto nel Settecento e vedremo poi come. Il Lacoonte, l'Apollo, il Torso del Belvedere, in realtà poi è stato spostato in una sala interna l'Hermes meraviglioso, ma anche tante altre sculture fanno parte di questo cortile ottagono, che altro non è che la derivazione appunto del cortile delle statue. La Conte, andiamo. Il Torso del Belvedere famosissimo, l'Apollo, straordinaria purezza classica. Ma l'arte in Vaticano è tanto appunto, Alessandro Sesto Borgia affresca l'appartamento prima di Giulio II, ma c'è anche appunto Beato Angelico che affresca per Niccolò V la cosiddetta Cappella Nicolina all'interno dei palazzi. Quindi l'arte in Vaticano non è appunto, almeno in una fase iniziale, non è legata a un'istituzione museale, ma è legata appunto alla committenza specifica di pontefici o di cardinali per la valorizzazione e per l'abbellimento di spazi. E' chiaro, Sesto IV, quando costruisce la Cappella Sistina chiama nella seconda metà del Quattrocento chiama i più grandi pittori del momento. Quindi andiamo indietro di venticinque anni chiama i grandi pittori toscani e umbri del Quattrocento e quindi abbiamo anche tanta arte del Quattrocento. Questo è Pietro Berugino, un affresco famosissimo, il primato di Pietro, la consegna a San Pietro delle chiavi della chiesa che tanto valore ha simbolicamente e questo è nella Cappella Sistina ed è sotto la volta di Michelangelo ma questo avviene prima e insieme a tanti altri artisti che possiamo vedere appunto c'è Ghirlandaio e Botticelli andiamo avanti Botticelli e Viaggio d'Antonio e altri. Raffaello delle Stanze abbiamo già visto andiamo avanti questa è la volta della segnatura questa è la cosiddetta disputa di sacramento sempre nella stanza della segnatura questo è il celeberimo Parnaso sempre di Raffaello ancora la segnatura per errore va bene particolare della segnatura ancora particolare della scuola d'Atene stanza degli Odoro liberazione di San Pietro dal carcere e poi va bene la Cappella Sistina ancora un po' di Cappella Sistina non guasta queste sono le immagini appunto del dopo chiaramente del dopo restauro degli anni Ottanta che in qualche modo hanno cambiato completamente la percezione dei musei io ripeto sempre quello che si leggeva dalle guide del del Sette e dell'Ottocento cioè si veniva in Vaticano non per Michelangelo intanto perché era una cappella quindi era un luogo di culto era un luogo di preghiera ma soprattutto non per la Cappella Sistina ma si veniva per Raffaello delle stanze delle logge e per le antichità classiche quindi era quella la ricerca dei grandi artisti dei grand tourist raffinati di tutta Europa che venivano in Vaticano Michelangelo era scuro era buio era drammatico e poi era in una cappella e quindi soltanto il grande restauro e tutte le polemiche mediatiche che sono avvenute dagli anni 80 fino alla fine del restauro del giudizio quindi fino agli inizi degli anni 90 ha in qualche modo focalizzato l'attenzione è chiaro che è un luogo universale la Cappella Sistina è una catechesi visiva ma è anche il luogo d'arte se vogliamo appunto universale per eccellenza però non era la metagoniata di tutti i turisti che oggi sono ai Musei Vaticani ancora avanti un po' di immagini belle ma il Vaticano è anche luoghi incredibili come la Galleria delle Carte Geografiche Gregorio XIII buon compagno un bolognese dotto raffinato chiama Ignazio Danti un cartografo raffinatissimo a disegnargli l'Italia perché lui voleva girare l'Italia senza uscire dal Vaticano la prossima e quindi realizza qui non si vede molto bene ma realizza una cartografia meravigliosa suddivisa in regioni d'Italia in questa galleria che porta appunto dal Colle di Belvedere verso i palazzi dove lui appunto camminava tranquillamente oggi tanti tanti nostri visitatori la percorrono per andare verso le stanze e verso la Cappella Sistina ma ognuno si ferma e riconosce i luoghi da dove viene è molto dettagliata e addirittura le piccole pieve con i toponimi antichi sono raffigurati con una precisione topografica che veramente sorprende per quell'epoca in cui è stato fatta senza Google Maps GPS e tanti altri mezzi tecnologici ecco questa è l'Italia più generale ci sono i porti dovevo portare Napoli ma purtroppo non ho pensato comunque la allora ritorniamo appunto ma è soltanto nel 1756 grazie a un altro bolognese Benedetto 14esimo Lambertini un dotto amico dei dotti nella temperia straordinaria delle scoperte archeologiche della raffinatissima Roma di quegli anni pensiamo a Winckelmann pensiamo a Cardinal Albani pensiamo ai grandi vedutisti che erano a Roma in quegli anni ma soprattutto pensiamo all'attenzione degli scavi che appunto come avvenivano qui in campagna avvenivano chiaramente nei dintorni di Roma e quindi un papa raffinato e dotto decide di instaurare due musei e lo fa nell'ambito della biblioteca vaticana che era praticamente attivo a quelli che sono oggi i musei vaticani andiamo avanti e lo fa appunto ad augendum murbi splendorem et asserandam religionis veritatem cioè per ribadire la verità della religione e per in qualche modo aumentare la bellezza della città di Roma e lo fa con le opere cristiane che erano rinvenute nella biblioteca con degli architetti raffinatissimi che gli realizzano questo spazio museale dove tutti i ritrovamenti delle catacombe cristiane vengono posti allegoria della fede prima Stefano Pozzi ma poi anche Mengs illustrerà parte dei musei questo è un affresco che raffigura il nascente museo cristiano ma anche vediamo costruzione appunto nel 67 del museo profano quindi non soltanto le antichità cristiane quindi le testimonianze della fede cristiana ma anche venivano interessate andiamo avanti le antichità profane quindi quella che era la nascente archeologia sono gli anni in cui Winkelmann appunto adesso abbiamo in corso una mostra che in qualche modo è dedicata a questo grande padre della storia dell'arte e dell'archeologia perché la concezione della storia dell'arte dell'archeologia cambia dopo Winkelmann Winkelmann arriva a Roma nel 1755 e la sua visione e la sua anche tripartizione più semplice ma differenziazione degli stili delle epoche dell'arte classica sia greca che romana viene poi da lui stesso ma dalle persone che si occuperanno del suo pensiero estetico applicata a tutta la storia dell'arte per cui è una figura chiave e lui è il curatore di questo museo che è un museo non soltanto delle memorie cristiane ma è un museo delle memorie appunto antiche storiche antropologiche della del passato della Roma del passato straordinario Luigi Valadier addirittura disegna questi armadi meravigliosi raffinatissimi dentro i quali sono raccolti appunto i reperti archeologici lo stesso Valadier anche altri architetti realizzano lo spazio sempre con marmi preziosissimi ma anche c'è un gabinetto di papiri quindi c'è l'attenzione anche alle culture pre-romane quindi la cultura egizia e poi vedremo anche la cultura etrusca questo è Mengs della volta della sala dei papiri andiamo avanti ma anche l'attenzione all'epigrafia quindi l'attenzione a quella prima forma di conoscenza scritta e infatti viene andiamo avanti istituita una galleria lapidaria che pensate che dal palazzo porta sia alla biblioteca vaticana che ai nascenti musei quindi è un andito fondamentale attraverso la parola scritta la prima forma della parola scritta sia cristiana che profana si dà accesso alla parola scritta della biblioteca vaticana quindi della conoscenza dei testi antichi e alla conoscenza delle opere d'arte andiamo avanti il grande museo più clementino vedete 1771 clemente quattordicesimo sulla scia delle teorie del pensiero estetico di Winkelmann viene fondato il grande museo di archeologia quindi mentre il museo cristiano e profano erano dei piccoli musei di raccolte di scavo vediamo cosa viene inaugurata una sala rotonda meravigliosa con mosaici che oggi con una concezione incredibile non lo faremo mai staccati completamente dalle terme di Otricoli che è una località vicina a Roma pensate no no saranno 30 metri di diametro cioè quindi è un mosaico incredibile che è stato distaccato è portato lì e così tutte le statue che sono intorno sono state appunto ritrovate in luoghi chiaramente dello stato pontificio e portate in questo grande museo centrale grande museo universale che ha non soltanto l'architettura grandiosa e magno eloquente che testimonia la grandezza dei pontifici ma anche dei pezzi straordinari di scultura andiamo avanti va bene questo è un in realtà è un'acquisizione più tardi andiamo avanti il museo del cosiddetto sempre il museo di documenti è composto di vari ambienti questi sono i bussi e statue avanti queste sono sempre le statue con la famosissima Arianna o Cleopatra ma oggi appunto identificata come Arianna eccola famosissima il museo Chiaramonti ancora avanti e il cosiddetto braccio nuovo anche braccio nuovo che viene inaugurato all'indomani del ritorno da parte di Canova Napoleone appunto fine Settecento Napoleone le battaglie le perquisizioni napoleoniche Napoleone fonda un grande museo universale a Parigi prende il meglio che c'è in tutta Italia da Roma in su e lo porta a Parigi dove starà 25 anni e con la caduta di Napoleone il papa Pio VII Chiaramonti manda Canova a riprenderle opere e quando le riporta le riporta in uno spazio andiamo avanti meraviglioso che viene concepito dallo stesso Canova e del Raphael Stern per restaurare non soltanto il potere papale ma restaurare l'antico il valore dell'antico in quanto tradizione non soltanto di cultura di conoscenza ma chiaramente anche del potere che questa cultura e conoscenza comporta il famosissimo Nilo Napoleone porta a Parigi il Nilo e il Tevere pensate con dei carri c'è tutta una documentazione che racconta di questo passaggio il Tevere purtroppo Canova lo lascia a Parigi oggi è rimasto a Louvre perché non era in grado di viaggiare appunto non pensiamo ai trasporti di oggi controllatissimi per le mosse che facciamo ma appunto a carri che attraversavano le Alpi e tutti i territori con grandi difficoltà Augusto di Prima Porta tutti noi abbiamo studiato l'Augusto di Prima Porta che è appunto nel Braccio Nuovo andiamo ancora avanti nell'Ottocento tempera ottocentesca appunto si continua i pontifici continuano tutti vedono l'Ottocento come un periodo un po' più cupo con Gregorio XVI un Papa molto più restrittivo in realtà è il pontefice che vuole occuparsi e istituisce all'interno dei musei vaticani dei musei delle culture pre-romane quindi il museo Gregoriano Egizio nel 1839 queste sono alcune opere straordinarie che sono conservate ancora avanti questo è il cosiddetto Antino che viene da Villa Adriana ma anche tutta una collezione di sarcofagi importantissimi frutto di campagne di scavo promosse dagli stessi pontefici per cui i pontefici promuovevano campagne di scavo ancora avanti ancora avanti ma anche il museo etrusco Gregoriano etrusco sempre Gregorio XVI 1837 quindi l'attenzione questo è il Marte di Todi ma anche la tomba Regolini Galassi con un corredo straordinario di oreficeria e di conoscenza anche di questa di questa cultura pre-romana così importante per per la nostra anche questo è uno dei dei così sarcofagi etruschi ancora avanti questo è tutto il corredo della tomba Regolini Galassi quello che è stato trovato ancora avanti e va bene poi i famosissimi anche vaso di Ezechias con la con la la famosa scena di Ayace che gioca a scacchi riposandosi ma appunto le cose evolvono evolvono e arriviamo appunto molto avanti qui in realtà la diapositiva doveva venire dopo ma andiamo avanti vediamo cosa c'è dopo sì evolvono un punto focale è appunto dopo il 1870 70 anni di problemi con la questione appunto dopo la presa la presa di Roma trova la soluzione Pio XI e fonda lo stato della città del Vaticano all'indomani appunto tre anni dopo la firma dei trattati lateranense l'11 febbraio del 29 Pio XI un grande pontefice costruttore un milanese molto determinato apre i musei al pubblico perché appunto i musei erano sempre aperti al pubblico però erano aperti a un pubblico elitario a una raffinatissima a una raffinatissima elite di intellettuali di artisti tutti gli artisti venivano a copiare in Vaticano venivano a conoscere le opere vaticane oppure i diplomatici i grunturisti però il pubblico generale non entrava dal 1929 si paga un biglietto si entra si può direttamente dall'Italia si entra questo qui è il portale che vedete ha lo stemma di Pio XI e Raffaello e Michelangelo ai lati dello stemma quali simboli delle collezioni vaticane quali così monito di ingresso di accesso ai musei del Papa Giuseppe Momo un architetto torinese crea questa soluzione bellissima di questa scala helicoidale che è un esempio di architettura incredibile degli anni 30 tanto che Frank Lloyd Wright la riprende e lo dice lo dichiara nel Guggenheim di New York per questa doppia rampa helicoidale che permette appunto di supplire il dislivello dallo strato appunto dal suolo italiano fino all'alto del Belvedere dove erano appunto le collezioni vaticane scusate doppia rampa per farvi vedere meglio questo è Pio XI che inaugura appunto parte dei palazzi e delle collezioni vaticane che lui promuove molto in quegli anni andiamo avanti andiamo avanti ancora ma Pio XI inaugura anche un nuovo edificio della Pinacoteca vaticana sempre nel 32 l'architetto è Luca Beltrami che è un architetto milanese molto importante Luca Beltrami era molto anziano per cui non chiede a Luca Beltrami di costruire tante altre cose ma la Pinacoteca ci tiene tanto che Beltrami muore prima di vederla inaugurata ma la Pinacoteca vaticana ha opere straordinarie come il politico Stefaneschi di Giotto che è questo questo qui ce l'abbiamo nei due lati pensate appunto il politico che per secoli è stato sull'altare di San Pietro oggi è nei musei vaticani avanti ma opere come appunto Perugino Melozzo da Forlì sono nella Pinacoteca vaticana Carlo Crivelli il famosissima la famosissima Madonna di Foligno di Raffaello frutto di quelle esportazioni napoleoniche da Foligno da un monastero di clausura di Foligno Napoleone la prese la portò a Parigi e quando ritornò da Parigi Canova la riportò nelle collezioni che appunto aperte al pubblico sebbene un pubblico selezionato ma alla pubblica fruizione perché era passato quel concetto illuminato che effettivamente delle opere così importanti per la storia per l'arte per la conoscenza della bellezza dovessero essere di pubblica fruizione e non relegate e quindi i musei vaticani in questo ci hanno guadagnato e quindi abbiamo la Madonna di Foligno ma abbiamo anche la trasfigurazione che era nella chiesa di San Pietro e Montorio andata a Parigi e tornata poi ai musei vaticani andiamo ancora avanti e la stessa cosa il grande Caravaggio la grande deposizione di Caravaggio era nella chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma va a Parigi e torna in Vaticano quindi oggi il Vaticano è arricchito di questo dobbiamo ringraziare Napoleone ma dobbiamo soprattutto ringraziare Canova che come diciamo direttore delle collezioni vaticane è stato mandato dal Papa Pio VII a Parigi e pensate che girava con due giannizzeri di scorta perché chiaramente i parigini non volevano restituire le opere che erano state secondo il loro bottino di guerra Federico Barocci andiamo ancora avanti e tante altre appunto andiamo molto velocemente Pio XI fa una cosa straordinaria pensate tra le collezioni vaticane più importanti che abbiamo c'è quella del museo etnologico 80.000 pezzi quindi forse la più numerosa dei diversi musei vaticani nel 1925 in epoca ancora pre conciliazione pretrattati lateranensi istituisce una mostra missionaria dove le missioni e i paesi dei quattro continenti mandano quindi a parte l'Europa quindi Oceania Asia Africa e America mandano al Papa testimonianze della loro civiltà delle loro culture con un interesse e con un'apertura mentale alla diversità che è talmente attuale che fa impressione vedere sono 80.000 pezzi ed è veramente una parte straordinaria del museo sul quale stiamo lavorando anche perché appunto sono oggetti stranissimi questi vengono dall'Oceania e questo pensate viene dall'India e sono dei come si chiama dei colibri sono delle foglie di colibri insieme non delle foglie delle piume di colibri su oro ancora avanti o anche appunto di diverse questa è un'opera africana che appunto permettono di conoscere la diversità non soltanto testimonianze delle missioni ma anche dei governi o dei paesi e quindi istituisce un museo etnologico all'interno dei musei vaticani il museo delle carrozze è un altro museo che abbiamo e anche chiaramente poi con Paolo VI si inaugura la cosiddetta CARM siamo nel 73 ha dieci anni dal suo pontificato lui ci tiene Paolo VI una figura straordinaria che abbiamo appena recentemente santificato il 14 ottobre scorso per giustamente riconoscere il valore straordinario di questo pontefice pensate il pontefice della mia infanzia e adolescenza noi lo vedevamo come un pontefice un po' lontano un po' chiaramente quando arrivò Giovanni Paolo II anche oggi con Papa Francesco c'è un'empatia diversa Paolo VI è stato un uomo straordinario rileggendo quello che ha scritto e quello che ha fatto anche per i musei vaticani e il rapporto che lui ha avuto con l'arte e con gli artisti veramente lo rende non solo santo ma un uomo di altissimo spessore culturale pensate che lui all'indomani neanche un anno dopo la sua lezione riunisce gli artisti in Cappella Sistina e gli chiede scusa chiede scusa agli artisti e dice scusate erano tutte le temperie pensate appunto le avanguardie artisti del novecento c'era un distacco della chiesa con l'arte contemporanea e gli dice scusate noi abbiamo interrotto il dialogo con voi l'artista è profeta e poeta e in questo deve poter e deve e vogliamo che dialoghi con noi voi non ci trattate male ma io vi apro le mie porte vi apro le mie porte e vi chiedo di collaborare con la chiesa perché la spiritualità deve essere forsemente legata all'arte e quindi non dobbiamo interrompere questo dialogo che dura da secoli e che cosa fa? chiede agli artisti di donare delle loro opere e nei dieci anni le donano a lui personalmente dal 64 al 73 lui praticamente mette insieme questa collezione che poi dona ai musei vaticani e crea la collezione d'arte moderna religiosa dei musei vaticani che ha opere come appunto come Chagall questa cosa straordinaria a volte quando non erano gli stessi artisti erano dei benefattori che compravano le opere dagli artisti e le donavano al Papa ma andiamo ancora avanti ancora avanti ma anche Matisse questa è la la Madonna per la cappella di Vance in Provenza che realizza Matisse ancora avanti di cui abbiamo anche i bozzetti preparatori per le straordinarie vetrate che lui realizza per quella cappella ancora avanti potrei farvi vedere tante più cose ma appunto l'argomento del mio incontro di oggi voleva essere anche che cosa vuol dire gestire tutto questo patrimonio cioè che va appunto dai primitivi alle berline papali questa è la berlina che utilizzò più undicesimo e poi molto utilizzò più dodici che è parte del nostro padiglione cosiddetto delle carrozze delle berline papali che è tutta un'altra parte del Museo Vaticano ecco cosa vuol dire intanto vuol dire questo perché? perché appunto lo accennavo prima con il restauro con il restauro il grande restauro degli anni Ottanta lo ricordavamo l'altro giorno appunto la presentazione con il professor Sezza con la presentazione di Raffaello l'immaginario cambia si vuole andare a vedere chiaramente il grande Michelangelo ma si vuole andare anche a vedere il frutto di quelle grandi polemiche appunto c'erano questi miti ah sono i giapponesi che hanno fatto il restauro no i giapponesi hanno pagato soltanto le fotografie con un'alta tecnologia per documentare le tecnologie hanno ma gli operatori i restauratori sono stati i restauratori vaticani e la decisione l'ha presa il direttore dell'epoca che era Carlo Petrangeli insieme al al restauratore capo dell'epoca che era Gianluigi Colalucci cioè una decisione fondamentale di modificare radicalmente la visione di un di uno dei dei luoghi e delle opere simbolo dell'arte universale e raccontava l'altro giorno Gianluigi Colalucci che insomma non era facile non è stato facile anche sopportare tutte le polemiche molto di americani che tra l'altro non sono neanche mai saliti sopra i ponteggi del restauro della Cappella Sistina però ecco cosa sono i musei vaticani oggi? Sono tanto tanti visitatori sono tanti adesso vedremo un po' di numeri ma sono soprattutto una struttura molto complessa i musei vaticani lo vedete qua sono parte di un sistema di quello stato della città del Vaticano sono una direzione del sistema del governatorato dello stato della città del Vaticano quindi il mio diretto capo non è Papa Francesco lo è lo è chiaramente però è questo cardinale presidente del governatorato che è coadiuvato da un segretario generale quindi di fatto c'ho tre persone sopra di me anche quattro perché c'è anche il segretario di stato che in qualche modo però io riferisco al cardinale presidente che riferisce al Papa è chiaro che ogni tanto ci sono anche degli incontri con il Santo Padre però l'operatività viene svolta è come se fosse il mio ministro io sono un direttore di un grande museo e lui è il mio ministro che riferisce al presidente della Repubblica questo per capire un po' il concetto sono aiutata appunto parlavamo di gestione appunto carinamente dicevano che io ho attività maneggereale io ho solo buonsenso la mia formazione è la formazione di una storica dell'arte che si è creata delle competenze se vogliamo manageriali ma con il buonsenso con il lavorare appunto su delle collezioni e parallelamente insegnando e quindi avendo la sensibilità verso la ricerca per il mio insegnamento a Napoli ma non ho una formazione economica in questo senso e quindi per fortuna la Santa Sede che fa le cose per bene ha previsto e quindi ho trovato già un delegato per la parte gestionale amministrativa che mi aiuta e mi supporta per tutto quello che concerne la parte di organizzazione di gestione del personale soprattutto di gestione di una macchina che accoglie 22-23 mila persone al giorno con picchi molto più alti per fortuna con ogni tanto anche picchi più bassi ma che comunque comporta tutto quello che vuol dire accogliere persone disabili persone in lingua diverse di lingua e di culture diverse dar da mangiare dar servizi a tutte queste persone cioè non è è una macchina bella complessa che come vedete c'ho anche però un delegato per la parte scientifica che ci sono ma si vede no non si vede molto purtroppo ci sono dipartimenti e laboratori ma lo vediamo meglio nelle diapositive successive però questo per farvi capire la complessità della struttura andiamo avanti oggi sono questi i musei vi ho fatto vedere la cronologia oggi sono adesso non li ho contati io in genere li definisco 14 perché alcuni sono accorpati ai curatori diversi appunto per fortuna sono aiutata da una serie di curatori che possono essere considerati i direttori dei singoli musei che appunto a volte sono accorpati a seconda della tipologia delle opere d'arte e quindi che hanno chiaramente a loro volta degli assistenti che gli aiutano e che c'è una struttura appunto gerarchica che però è abbastanza ancora oggi familiare perché vediamo ecco vedete sono 14 reparti scientifici antichità egizie del vicino oriente per cui non è solo l'egizio ma è tutta parte anche siriana di scavi che i pontifici hanno prodotto in quelle zone antichità etrusco-italiche greche e romane cristiane che è un aspetto molto importante anche questo voluto da Pio XI per le prime testimonianze appunto dei paleocristiani e bizantino medievale secoli 15 e 16 quindi tutta l'arte di Raffaello Michelangelo ma anche i quattrocentisti 17 e 18 cortemporanea del ventesimo e ventunesimo secolo in realtà perché arazze e tessuti arti decorative collezioni storiche carrozze papali raccolte antologiche dell'Asia dell'Africa dell'America e dell'Oceania e poi epigrafiche quindi tutte le epigrafiche con una collezione sterminata e poi ultimamente è stata istituita una sovintendenza architettonica perché anche il contenitore è esso stesso un'opera d'arte e quindi va tutelato in quanto appunto l'opera d'arte bene diciamo culturale che va chiaramente restaurato monitorato studiato in quanto tale andiamo avanti ci sono dei servizi scientifici un inventario generale che per fortuna funziona molto molto bene da tanti anni un archivio storico che permette di fare delle ricerche anche per i restauri e per tutto il tipo di attività che si intraprendono una biblioteca specializzata e una fototeca antica che permette appunto di conservare le testimonianze di immagini fotografiche quindi anche quella è molto utile quando uno vuole affrontare una ricerca o dei restauri per le cose e poi c'è tutta una serie di servizi gestionali e amministrativi da affari del personale al corpo di custodia alla promozione sviluppo al bilancio alle immagini e diritti fondamentali Cattelan lo dico subito non ha chiesto il permesso abbiamo una per fare questa famosa mostra che ha fatto a Shanghai ha riprodotto la cappella assistita l'idea della riproducibilità eccetera ha fatto qualcosa che il nostro ufficio immagini e diritti ha messo di mezzo anche l'ufficio legale dello stato della città del Vaticano perché non ha non solo chiesto autorizzazione ma non ne ha neanche pagato i diritti e quindi giustamente stiamo vedendo le azioni legali che possiamo mettere non siamo in assoluto contrari ma non va bene perché dobbiamo tutelare anche il copyright delle opere che preserviamo e poi ufficio evento ufficio mostre attività didattica ufficio stampa ufficio web e multimedia ufficio supporto tecnologico tanto web ormai stiamo chiaramente sviluppando ufficio pubblicazioni siamo una casa editrice quindi c'è tutta delle persone che lavorano il bookshop che vende chiaramente tante cose nei nostri musei e tanti e tanti altri l'ufficio patrons mi piace ricordarlo perché chiaramente siamo supportati da dei benefattori che ci aiutano per dei restauri e per delle attività che chiaramente non riusciremo a intraprendere così bene senza un supporto esterno cappella Sistina per i grandi restauri perché questo vuol dire anche i musei vaticani i musei vaticani identifica i musei vaticani con i restauri il restauro degli anni 80-90 l'abbiamo parlato avanti Gianluigi Colalucci mi faceva piacere farvelo vedere ma soprattutto mi faceva piacere farvi vedere lui ha soltanto pulito lo sporco a destra di quell'immagine vedete un ignudo che viene pulito nella parte destra e nella parte sinistra è come era scura il suo corpo prima dell'intervento di pulitura che ha semplicemente levato stratti di vernice oscurate dal nerofumo delle candele perché la Sistina è una cappella dove si celebrano ancora e ci sono celebrate moltissimo cerimonie che chiaramente facevano uso di candele quindi il nerofumo con le vernici che venivano messe per rinfrescare gli affreschi facevano questo effetto di mappazza nera o non so come altro definirlo che chiaramente i restauratori hanno semplicemente rimosso andiamo avanti e questo bisogna dire che non è stato frutto questi sette cioè 92 persone stabili che lavorano da noi soltanto come restauratori non è stato soltanto il frutto del restauro degli anni 80 perché già dall'epoca di Bartolomeo Nogara quindi di Piondicesimo della direzione di Bartolomeo Nogara si intuì l'esigenza di creare dei laboratori di restauro già in quella pinacoteca inaugurata Piondicesimo nella parte bassa c'erano i laboratori di restauro che cosa facevano facevano erano ad uso degli oggetti così diversi delle collezioni guardate il laboratorio tessuti a razzi sono sette distinti pitture materiali linee c'ha 25 persone più 14 che lavorano nei cantieri degli affreschi il polimaterico appunto tutto il materiale etnografico lapidei tutte le sculture metalli e ceramiche tutte le suppellettili i mosaici sono tre persone e il restauro carta sono due poi c'è un ufficio conservatore che si occupa della manutenzione preventiva che è fondamentale in un grande museo così visitato e poi c'è soprattutto un laboratorio di diagnostica che permette di fare tutte le indagini preliminari scientifiche di controllo appunto di riflettografie radiografie tutte le indagini preliminari per affrontare una qualsiasi tipo di ricerca un qualsiasi tipo di restauro andiamo avanti restauro che va anche dal restauro architettonico questo se vi capiterà di venire ai musei vaticani purtroppo non ho l'immagine dopo il belvedere vaticano il belvedere di Bramante Pirroligorio si presentava così oggi è bianco è bianco travertino perché effettivamente le indagini le analisi i documenti d'archivio ci hanno detto che era così e quindi lo stiamo riportando a qual era il suo colore originale concepito dagli architetti in maniera originale un po' di numeri il direttore di partimento ha parlato di 5 milioni purtroppo siamo purtroppo di coda direttore siamo a sicuramente più di 6 milioni di visitatori l'anno la media di circa 23 mila persone al giorno abbiamo circa 200 mila opere di collezione di cui 20 mila sono esposte quindi l'80% il 75% è nei depositi lo spazio espositivo l'abbiamo già detto sono 7 chilometri facciamo tanti eventi culturali circa un centinaio l'anno pubblichiamo circa 20 libri l'anno come casa editrice e siamo circa 700 persone che lavorano stabilmente che arrivano a mille con i collaboratori esterni abbiamo un ciclo di stagisti non fate tutti domande per favore perché bisogna essere laureati ormai e sono per le diverse realtà del museo che vanno dalla appunto dall'accoglienza dall'ufficio mostre dalla parte più amministrativa gestionale fino alla parte anche dei laboratori ma anche alla parte relativa proprio alla ricerca sul campo alla ricerca archeologica alla ricerca storico-artistica e poi prestiamo tante opere forse anche questo troppo 750 nel 2017 spero che il 2018 sia un po' più basso ma non tanto per la non volontà di divulgazione perché il prezzo implica comunque una pericolosità per l'opera che deve essere imballata partita con l'aereo e così via vi faccio un esempio stupidissimo banalissimo la grande Germania considerata il modello straordinario di conservazione preservazione precisione nelle procedure quest'anno abbiamo prestato tante cose alla Germania in particolare due mostre un Barocci e un'opera etrusca il Barocci ha avuto un gocciolamento sulla cornice mentre era in esposizione perché hanno avuto un danno d'acqua anche nel museo di Francoforte e la stessa cosa è un piccolo minuscolo danneggiamento avvenuto anche per un'opera etrusca per cui effettivamente le problematiche legate alla eccessiva facilità e disinvoltura nei prestiti invece insomma bisogna stare molto attenti qual è la realtà dei musei appunto una realtà molto complessa andrò velocemente facendovi vedere appunto noi abbiamo tante conferenze scientifiche che sono legate sia a questo giovedì dei musei giovedì pomeriggio in genere apriamo le porte a argomenti diversi appunto che riguardano quei 14 dipartimenti scientifici e quei 7 laboratori di restauro che vi ho fatto vedere spaziano da non so una giornata giovedì sugli oli essenziali figuratevi gli oli essenziali delle piante utilizzati come biocidi e diciamo mezzi con i quali pulire le sculture antiche senza avere danneggiamento sia per la natura fondamentale secondo i dettami di Papa Francesco con laudato sì ma soprattutto per il nostro senso civico ed ecologico ma anche come biocida cioè che non che prevengono appunto la formazione la formazione di altre cose oppure vanno scusate oppure vanno torniamo anche un attimo indietro vanno da cose etrusche oppure quello in alto mi piace ricordarlo è un'iniziativa abbiamo fatto all'inizio dell'anno con l'Accademia di Belle Arti di Roma dove gli studenti sono venuti come in passato a disegnare in un nostro sezione archeologica e poi i disegni migliori con la direttrice dell'Accademia delle Belle Arti di Roma li abbiamo esposti vicino alle opere e quindi abbiamo fatto una settimana che un artista cosa che effettivamente va contro il regolamento dei musei vaticani dove gli artisti viventi non possono fare esposizioni questo salva il direttore salva tutti noi da tante ingerenze che invece arriverebbero in questo caso abbiamo fatto un'eccezione perché si trattava di studenti che quindi avevano fatto un lavoro specifico quindi rientrava nelle attività didattiche però è stata una bellissima iniziativa andiamo avanti vi esorto tutti ad andare a vedere il nostro sito web che è stato rinnovato completamente nel gennaio del 2017 non soltanto per l'offerta diciamo di visite che offre ma perché effettivamente ha grazie a quell'inventario che vi dicevo ha finalmente la consistenza delle collezioni tanti musei italiani purtroppo non hanno il catalogo online delle opere è un punto al quale io tenevo molto forse per la mia formazione che vengo dalla biblioteca vaticana da vent'anni appunto in biblioteca vaticana dove il catalogo è fondamentale non avevano pensato a questo esisteva un catalogo intranet per gli interni e io ho semplicemente detto switchiamo rendiamolo compatibile con il nostro web lavorate all'uniformizzazione dei dati e degli authority files e quindi adesso abbiamo un catalogo con le opere esposte online andiamo avanti tante mostre tantissime mostre ma non soltanto mostre ai prestiti che facciamo ma mostre che organizziamo noi queste sono le mostre dell'anno scorso una mostra di disegni di Francesco Borromini una mostra di reliquie di un importante vescovo dei primi secoli dei primi secoli che veniva dalla Francia una mostra in collaborazione con la comunità ebraica quindi sulla menorah su questo candelabro a sette braccia simbolo della cultura ebraica una mostra di madonne della pinacoteca vaticana di immagini mariane che abbiamo portato a Lisbona al museo nazionale d'arte antica quella è la mostra appunto fatta con la camera delle belle arti una bellissima mostra a Santiago del Cile nel museo nel palacio della moneda dove abbiamo portato la conoscenza della cultura e della tradizione della storia romana dalle origini di Roma fino al Tardo Impero prima grande mostra archeologica in America Latina dentro il palacio della moneda dentro il palazzo presidenziale di Santiago del Cile e poi ci tengo molto a quel museum at work è una piccola sala ormai che dall'inizio della mia direzione all'interno della pinacoteca vaticana la sala 17 è indirizzata a mostrare l'attività del museo si fanno tanti restauri appunto 92 operatori nel campo del restauro tanti tante professionalità che a volte fanno il lavoro e poi l'opera ritorna o in deposito o ritorna in sala senza valorizzazione invece in questa sala anche solo per un mese per due mesi vengono esposte le opere di restauro o l'attività comunque i risultati di alcune attività che si svolgono qua ancora avanti presentazione convegni cose diverse appunto dal film di Sky di Raffaello adesso abbiamo presentato quello di Michelangelo Michelangelo Infinito o convegni di egettologia ancora avanti ma anche tipologie di visite diverse visite per i disabili visite per i non vedenti visite per i non udenti abbiamo degli operatori che usano il linguaggio dei segni c'è l'attenzione anche alla diversità in un museo grande che accoglie veramente di tutto nei visitatori che arrivano ancora avanti tante cose diverse appunto dai giovedì dei musei ma anche ne parlavo con il rettore prima il giudizio universale questo show che riguarda la Cappella Sistina che adesso è tanto è tanto di moda al quale noi abbiamo dato una consulenza è un musical è uno show al quale noi abbiamo dato solo una consulenza di immagini e scientifica in modo che non facessero errori storici artistici e così di ambientazione ancora avanti ma quello e questa è l'ultima diapositiva vi faccio vedere quello che preme di più a un direttore nella sua gestione non è soltanto l'armonia dei rapporti e l'armonia di tutte le persone che collaborano e degli ambienti e delle opere che ci sono ma soprattutto che quel patrimonio straordinario che abbiamo ricevuto dal passato lo dobbiamo tramandare al futuro e lo dobbiamo tramandare nel migliore dei modi e quindi tutti i nostri sforzi e i miei personali sono in questo senso grazie applausi se accendiamo un po' la luce allora ragazzi ragazzi intanto vi devo fare i complimenti perché siete stati bravissimi che è cosa abbastanza rara però è anche merito della professoressa Iat che vi ha accattivato con le sue parole allora io direi se Barbara è disponibile per ascoltare qualche domanda preferirei dei giovani evitando i professori poi se diciamo questo male dobbiamo prendere bene questa cigoglia lo faremo allora allora ragazzi mi sta come la direttrice dei musei vaticani e tu hai parlato delle opere che sono esposte e così via nella mia brevissima e anche un po' grossolana presentazione io però ho detto che tu poi alla fine sei anche un manager non puoi non essere una manager allora io già so la risposta perché ne abbiamo un po' parlato vorresti tracciare in maniera molto essenziale brevemente una tua giornata tipo per far capire voglio dire come poi la storia dell'arte in questa giornata tipo c'entra ma in maniera molto relativa sì allora inizio a lavorare abbastanza presto 8 meno un quarto 8 sono in Vaticano come medici è un'abitudine di famiglia e mio marito è medico appunto lo sa bene il rettore anche se a volte mi sveglio prima e lavoro a casa prima con con delle cose con delle attività o delle mail anche direttamente da casa generalmente c'è una riunione di direzione con i due delegati l'amministrativo gestionale e quella per la parte scientifica che su determinate questioni che dura più o meno una mezz'ora 40 minuti poi a seconda delle esigenze e poi la giornata si sviluppa con una serie di incontri che possono essere generalmente il mercoledì sono dedicati anche dalle dieci e mezzo in poi a inizio e fine di cantiere di restauro perché ogni mercoledì ci sono almeno tre o quattro riunioni o preliminari o di medio termine o finali di attività di restauro che noi intraprendiamo a volte ci sono dei sopralluoghi esterni perché appunto i musei vaticani sono sovrintendenti anche dei luoghi extraterritoriali vaticani quindi delle grandi basiliche quindi di San Giovanni in Laterano con tutto quello che comporta in termini di arte nelle grandi basiliche pensiamo a Santa Maria maggiore abbiamo restaurato qui non ho fatto vedere negli ultimi mesi la Salus Popoli Romani che è un'icona simbolo è un'icona preziosissima per la devozione la devozione romana è un'icona medievale appunto di straordinaria fattura e abbiamo avuto un problema enorme a restaurarla perché veniva come la Cappella Sistina abbiamo cambiato completamente la percezione il volto e tutta schiarendo completamente i colori riportando la cromia originale quindi l'incarnato originale e il problema che ci siamo posti era continuiamo non continuiamo e dopo le prime esaggi di pulitura l'ho chiesto al cardinale mio al cardinale di Santa Maria Maggiore perché c'è un arciprete cardinale arciprete di Santa Maria Maggiore che non si sono fidati e hanno chiesto al Papa per cui ho dovuto fare una relazione al Papa perché lì non era soltanto l'aspetto storico-artistico ma era anche un aspetto devozionale il Papa ci ha dato il placet e poi quando l'abbiamo finita l'ha inaugurata con un incontro bellissimo che ci ha dato perché sapete tutti che il Papa è particolarmente devoto a questa immagine ogni viaggio che intraprende sia all'andata che al ritorno visita Santa Maria Maggiore la Cappella Borghese dove quest'icona è conservata come buon augurio per il suo viaggio poi continua con delegazioni di persone che vengono per proporre di fare mostre persone che vengono per proporre di fare progetti insieme ecco ieri mattina ho ricevuto la fondazione Follon di Bruxelles perché faremo forse una mostra su Follon e sull'attività grafica di Follon che era un artista molto attento ai problemi ecologici ai problemi sociali e quindi e subito dopo ho ricevuto Timothy Verdon che è il direttore del museo quindi passata dal francese all'inglese il direttore del museo dell'opera del Duomo di Firenze straordinario luogo assolutamente vi esorto tutti a visitarlo perché l'hanno rinnovato grazie anche a Timothy Verdon e a tutto il board del museo in maniera straordinaria visite appunto di colloqui con gli interni colloqui a volte anche personali lo dicevo al rettore di persone che mi vedono come madre come donna come persona che comunque può dargli dei consigli anche forse diversamente appunto scusate non ho parlato il mio predecessore Antonio Paolucci un grande storico dell'arte un grande direttore che mi ha accolto per sei mesi mi ha guidato per sei mesi in qualità di vice direttore lasciandomi lasciandomi entrare nella direzione anche in questo devo dire che la Santa Sede ha avuto intelligenza cioè mi ha affiancato prima di darmi ruolo ma io sapevo dall'inizio che avrei sostituito cioè io e Paolucci lo sapevamo e lui mi ha anche dato forza con gli interni ribadendo che dal 4 dicembre perché in realtà la mia nomina è arrivata il primo gennaio ma di fatto lui scadeva il 4 dicembre quindi io dal 4 dicembre che è Santa Barbara quindi niente di più significativo per me arrivava la mia sarebbe arrivata la mia nomina direttore quindi io da giugno a dicembre l'ho affiancato e lui veramente è stato in questo straordinario è chiaro che siamo completamente diversi lui non usava il computer e quindi non aveva questa attenzione che io posso avere per la tecnologia per la conoscenza attraverso il web e quindi tutta la parte dell'informatica del web ma anche altre cose lui la poteva giustamente da grande direttore anche da grande manager lui stesso intuirla ma non entrare nel dettaglio come invece la mia formazione in biblioteca vaticana mi ha permesso di fare anche dialogando in maniera molto pragmatica e pratica con le persone e poi ogni tanto cerco di mangiare non voglio saltare il pranzo perché a volte lo faccio interno a volte mangio anche poco lì ma cerco invece di sedermi staccare almeno mezz'ora tre quarti d'ora per pranzare e poi il pomeriggio abbiamo spesso le attività che vedete quindi bisogna anche la preparazione di questa generalmente la faccio a casa la sera o la mattina presto appunto se o il weekend ieri abbiamo presentato un convegno sull'architettura sacra del postconcilio Vaticano II quindi dal 1968 al 2018 quindi gli ultimi 50 anni architettura sacra a Roma qualche giorno prima abbiamo presentato il volume del restauro di Raffaello lunedì presentiamo una grande mostra russa al braccio di Carlo Magno che appunto dove devi prepararti i discorsi conferenza stampa e così via la scorsa settimana abbiamo inaugurato la mostra di Vincola con tutto quello che comporta e fra dieci giorni presenteremo una mostra su su un'opera egizia che viene dal Museo Egizio di Torino per uno scambio istituzionale che facciamo quindi musei in dialogo noi manderemo un'opera nostra lì e loro mandano un'opera identitaria del museo da noi quindi e poi cerco di tornare a casa e se riesco vado anche in palestra o in bicicletta per decomprimere in bicicletta lo posso fare molto bene d'estate d'inverno non lo posso fare e poi ho comunque una famiglia con dei figli un marito e quindi anche una vita normale a volte mi capita di avere ricevimenti la sera istituzionali con i nostri finanziatori oppure inaugurazione di mostre e così via però insomma è una vita molto molto piena stimolantissima impegnativa però stimolantissima allora altre domande prego vieni avanti bravissimo vieni vieni ti do il microfono dai ti presenti buongiorno mi chiamo Francesco sono uno studente del corso storico artistico dei beni culturali lei volevo chiedere se in tutto questo tempo lei si è tra virgolette abituata a tutta questa bellezza oppure se la stupisce ogni giorno di volta in volta grazie no non mi sono abituata arrivare la mattina molto presto e a volte andare subito in una parte del museo che in qualche modo deve essere visitata per determinati motivi ecco per la mostra di Winkelmann andavo spesso nel cortile ottagono a vedere perché abbiamo rifatto la parte di fondo dei cosiddetti gabinetti con dei finti marmi e seguivo il lavoro dei decoratori perché ci tenevo che lo finissero per l'inaugurazione lo facessero bene ecco girare ancora la mattina presto o la sera tardi quando il pubblico va via dopo le sei io a volte rimango lì chiaramente anche oltre è un privilegio unico e non mi abituerò mai adesso vi racconto una cosa che non dovrei fare però una persona molto autorevole prima di lasciare il suo incarico a Roma era un diplomatico mi ha chiesto una cortesia mi ha chiesto di accompagnarla in Cappella Sistina e che prima di morire voleva sdraiarsi in Cappella Sistina sdraiarsi sì e vedere la Cappella però l'ho accontentata l'ho accontentata dopo le sette di sera siamo andate in Cappella Sistina ho mandato via le guardie i custodi dicendo che che dovevamo rimanere soli e tutte e due ci siamo sdraiate in Cappella Sistina allora altre domande allora diamo due domande ai professori perché tanto so che le vogliono fare chi è che vuol fare qualche domanda tra i colleghi che sono seduti a primo banco Nadia sicuramente vuol fare una domanda vai Nadia vieni la nostra professoressa di museologia io preferivo che parlassero i ragazzi anche perché sono felicissima comunque di questa mattinata perché è strettamente connessa a quanto facciamo noi quotidianamente a quanto insegniamo ai nostri ragazzi ogni giorno però a questo punto raccolgo una richiesta che mi era stata fatta dai nostri studenti e quindi visto che speravo che si alzassero perché me lo avevano chiesto prima di entrare molti laureati sono particolarmente interessati all'attività di stage di rocini presso o presso i musei vaticani e quindi a questo punto ecco mi faccio portavoce della loro richiesta so che attraverso il sito è possibile fare domanda ma esattamente che cosa chiedete ai studenti laureati ovviamente ai nostri laureati per accedere a questo tipo di attività allora è un'attività sono i giorni più belli quando iniziamo i sei mesi di tirocinio dei ragazzi sono circa 22-23 a seconda dei semestri e va sicuro sono i giorni più belli che io passo al museo quando accogliamo i nuovi e quelli che hanno fatto i sei mesi precedenti hanno tre minuti ciascuno con un powerpoint o con un così semplicemente a voce in sala conferenze per salutare diciamo noi interni dei musei e introdurre ai nuovi quello che loro hanno fatto perché è un'attività che chiaramente viene suddivisa quindi bisogna essere laureati in diverse specializzazioni che possono essere appunto nell'arte medievale nell'arte rinascimentale barocca o in restauro quindi in restauro di materiali lapide o ligno o di mosaici di carta o archivistico oppure volontà appunto di farlo nella fototeca oppure volontà di farlo all'accoglienza quindi più un lavoro manageriale o presso l'ufficio stampa o presso l'ufficio mostre che seguono tutta l'attività delle mostre che i nostri chiaramente funzionari dell'ufficio mostre fanno bisogna essere laureati bisogna fare una domanda e chiaramente vengono selezionati e ci teniamo questo da una commissione dove il direttore non c'entra io ratifico diciamo la decisione di una commissione esattamente esattamente dove dove però la commissione interessa il tutor perché ognuno di loro ha un tutor che se ne deve occupare e più ci sono tutta una serie di momenti comuni dove questi 20 22 tirocinanti vengono così introdotti all'attività generale del museo poi partecipano chiaramente a tutte le nostre iniziative sono parte appunto delle mostre quando ci sono le inaugurazioni i convegni sono benvenuti a venire però ecco escono fuori che effettivamente hanno una consapevolezza generale non soltanto del reparto dove sono stati ma generale del museo e generalmente piangono tutti quando vanno via perché si sono trovati bene questo veramente per me è uno dei giorni più belli del mio lavoro lì perché mi rendo conto che comunque siamo stati utili vi dico subito che c'è una clausola e questa è fondamentale c'era prima che io arrivasse sono molto contenta che ci sia che non possono fare domanda di assunzione prima di due anni dopo che hanno fatto lo stage perché altrimenti tutti chiaramente pensano che il preludio è un'assunzione purtroppo il nostro organigramma ad oggi è saturo è pieno abbiamo delle persone che chiaramente andano in pensione ma la cosa più buffa ecco dal mio essere arrivata lì ai musei è che ogni tanto qualcuno scambia la direzione musea con l'ufficio di collocamento voi non avete idea giustamente perché c'è un problema oggettivo in Italia di occupazione giovanile per cui questo è il problema fondamentale però effettivamente io darei lavoro a tutti figuriamoci però purtroppo non è possibile questo dei tiroceni sicuramente aiuta ed è un titolo che molto ben si spende anche al ministero anche all'estero riceviamo anche dei tirocenanti dall'estero adesso abbiamo tedeschi russi ecco russo ad esempio l'abbiamo preso perché avevamo in programma questa mostra dei russi e quindi nella scelta dell'ufficio mostra che ne ha scelti due questi semestre ha scelto anche una persona russa che ci ha permesso quindi è un po' anche secondo la logica e l'ottica della programmazione del lavoro che noi dobbiamo intraprendere nei sei mesi in cui loro oppure per la mostra del Cile dove tante tante opere archeologiche dovevano partire il laboratorio del restauro marmi ne ha avuti addirittura tre di tirocenanti appunto di restauratori già specializzati nel restauro dei marmi e chiaramente lavorare su opere straordinarie dei musei vaticani non ti capirà tutti i giorni quindi effettivamente è sicuramente una bellissima opportunità Allora vieni c'è il tempo per un'ultima domanda vieni 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 Barbara vuoi un'altra acqua? perché visitando il profilo Instagram abbiamo visto in una foto che anche il presidente Trump è stato a visitare i musei vaticani lui diciamo come come l'ha presa insomma che Trump soprattutto e lei come l'ha colto poi soprattutto allora nell'attività che un direttore dei musei vaticani deve svolgere c'è sicuramente anche tutta una parte diplomatica molto molto impegnativa chiunque di grandi appunto dei regnanti della terra che vengono a Roma o in visita al presidente della Repubblica italiana o in visita al Papa vuole vedere i musei vaticani per cui mi succede molto spesso di ricevere personalità del calibro anche di Trump altri capi di Stato sono venuti dalla Merkel a Macron a Trudeau canadese e allora l'arrivo di Trump era stato preannunciato qualche giorno prima la mattina molto presto secondo me glielo hanno fatto apposta anche in Vaticano a farlo venire alle 8 di mattina per cui loro per prepararsi la delegazione e le signore erano tutte abbigliate vestite eccetera per cui poi mi hanno detto che era dalle 5 di mattina che erano svegli per chiaramente tutta questa operazione io ho ricevuto in Cappella Sistina inizialmente la moglie e la figlia Melania e la figlia di Trump e devo dirvi che ero molto prevenuta come vi potete immaginare però mi hanno fatto tutte e due un'ottima impressione però vi devo dire che le due donne con le quali sono state una mezz'ora prima perché sono andati tutti dal Papa poi Trump si è trattenuto con il suo segretario di Stato dal segretario di Stato Vaticano e quindi ma le signore sono state appunto accompagnate in Sistina e questo alle 8.30 quindi anche io mi sono svegliata presto non mi sono sono andata normalmente tanto ero arrivata comunque in orario normale di ufficio e mi hanno fatto una buona impressione tutte e due la Melania Trump è una bellissima donna ma questo lo vediamo tutti ma anche una donna la quale come prima domanda ho chiesto se era mai stata ai Musei Vaticani se era la sua prima visia mi ha detto no sono venuta qualche anno fa per portare mio figlio e quindi già questo mi è sembrato un segno comunque di attenzione e di intelligenza di voler far educare il figlio alla bellezza e poi eravamo nella Sala Reggia e nella Cappella Sistina e nella Cappella Paolina che sono al di là non sono visitabili normalmente per il grande pubblico la Cappella Paolina in modo particolare ho spiegato alle due signore la Cappella Paolina dicendo che è la Cappella privata del Santo Padre dove spesso i pontifici si riuniscono e si raccolgono in preghiera e lei mi ha chiesto la cortesia da sola fuori dai giornalisti che avevano già fotografato eccetera mi ha chiesto di stare un attimo un momento a pregare da sola quindi intanto anche quello mi ha deposto comunque dal mio punto di vista bene la figlia come si chiama Ivanka è una donna intelligente si capisce c'è una donna sveglia attiva andava alla comunità di Sant'Egidio non voleva sbagliare il nome per cui più volte mi ha chiesto ma come si dice Sant'Egidio perché effettivamente per un americano è difficile e è molto impegnata nel sociale poi ognuno ha la sua opinione politica però in assoluto mi sono sembrate due persone che comunque erano molto ben consapevoli del luogo dove si trovavano dell'importanza artistica storica e di fede di quei luoghi è arrivato Trump e anche lì l'hanno volutamente portato con la pompa vaticana come in Vaticano sanno molto ben fare quando ci sono delle cerimonie per impressionarlo per cui il prefetto della Casa Pontificia Sua Eccellenza Genswein l'ha accompagnato fino alla Sala Reggia che è la sala laica e me l'ha consegnato me l'ha presentato e quindi poi si è ritirato lui e quindi a quel punto ho iniziato a spiegare e Trump l'impressione anche lì ero molto prevenuta come vi potete immaginare l'impressione che non avesse una cognizione storico-artistica del luogo dove si trovasse mi ha chiesto ma cosa è più bello quale Michelangelo è più bello gli ho detto Presidente la bellezza è un fatto molto soggettivo io le posso raccontare la cronologia delle opere o posso condurlo alla bellezza ma dirle che cosa è più bello effettivamente è difficile però se vi posso dire era emozionato era emozionato poi è stato con la moglie quindi ha sicuramente l'intero incontro l'ha toccato profondamente ma questo è inevitabile dall'incontro con Papa Francesco arrivare nei palazzi in una sistina vuota con questa veramente universalità dell'arte della storia e della fede della spiritualità emoziona anche un uomo come Trump va bene grazie allora io desidererei che Rosanna Cioffi ti desse il libro ma più che d'altro vorrei dire lei la curatrice ti presenterà anche l'idea su come questo libro è stato diciamo strutturato e realizzato infatti questo è un libro che io ho curato naturalmente insieme con Giosia Mirante del Dipartimento di Architettura e Giuseppe Pignatelli storici dell'architettura io sono una storica dell'arte abbiamo realizzato questo volume che in copertina riproduce un'immagine della Campania Felix Terra Labori Solim Campania Felix proveniente proprio dal presente nella galleria degli affreschi delle varie province dell'Italia e questo è un libro di carattere storico artistico architettonico ma che naturalmente illustra gli spazi della diciamo dell'Ateneo ma anche naturalmente l'attività di formazione didattica e di ricerca che è molto attiva e presente nella storia breve delle facoltà dei dipartimenti casertani e della terra di lavoro ma che ha una storia antichissima per quanto riguarda i dipartimenti di medicina che provengono dalla tradizione fridericiana ma questo io credo se il rettore Paolisso mi concede una piccola riflessione da trasmettere alla direttrice dei musei vaticani che ci ha così ben illustrato dando anche delle indicazioni di metodo come coniugare felicemente una formazione storica umanistica artistica con poi grazie credo anche a queste conoscenze di tipo interdisciplinare ma di respiro umanistico riesce a dirigere un museo così complesso anzi una rete museale così complessa credo che questo sia anche lo spirito del nostro Ateneo rettore che ha una tradizione straordinaria per quanto riguarda naturalmente i dipartimenti di medicina ma nell'organizzazione poi diciamo di caserta di terra di lavoro oggi siamo a Santa Maria Capuavetere dove c'è il dipartimento di lettere e beni culturali dove ci sono degli agguerriti corsi di laurea in lettere filologia moderna conservazione dei beni culturali storia dell'arte archeologia dove cerchiamo di impegnarci a formare giovani in questi settori di cui abbiamo sentito così felicemente parlare ma naturalmente con una tradizione poi di tipo scientifico veramente ferrata che ci fa essere diciamo all'avanguardia nel panorama nazionale anche con qualche diciamo aspirazione internazionale questo volume sintetizza questi 25 anni ormai di più della storia di questo Ateneo che si chiama Università della Campania come Campania Felix e nello stesso tempo come nome come patronimico Luigi Van Vitelli perché naturalmente questo straordinario architetto intellettuale ha lasciato un segno indelebile almeno ci auguriamo grazie alla manutenzione oltre che alla valorizzazione di questo monumento che caratterizza questo territorio e quindi ci chiamiamo con orgoglio Università della Campania Luigi Van Vitelli Grazie willne Iscriviti 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 Grazie a tutti.